No, ma allora sei stronzo, cioè dillo, dillo che sei stronzo, cazzo, ma non capisco perché ogni volta devi fare questa stronzata del sangue che esce dal naso, cioè l'abbiamo capito, ma basta. La maglietta? Senti, vedi di sistemarla al volo prima che mi incazzo. Ciao ragazzi, oggi facciamo un tutorial molto semplice a proposito di questa clip che avete visto in apertura di Stranger Things, in modo che possiate farla anche voi al vostro computer con la vostra macchina fotografica e divertirvi perché in realtà è tutto piuttosto semplice. Come potete avere intuito, penso, la parte iniziale in cui chiamiamo Eleven, schiaccia la lattina e c'è il professore papà di fianco che controlla, in realtà è la fusione di tre filmati. Un filmato che riguarda la lattina, un filmato che riguarda Eleven, un filmato che riguarda il papà. Queste tre tracce vanno poi ritagliate e messe insieme. La cosa fondamentale perché l'effetto funzioni è che la macchina fotografica rimanga ferma, fissa sullo stesso punto di ripresa, che può essere ad esempio un treppiede. Deve essere impostata nello stesso identico modo per tutto il tempo. Infatti vi consiglio di, anzi, è fondamentale impostare la macchina fotografica che è manuale e anche la messa a fuoco deve essere manuale. Non potete permettervi che metta a fuoco differenti cose nelle tre clip. Vi consiglio di mettere a fuoco, io ho messo a fuoco la lattina. Fondamentale non filmare con luce naturale perché se una nuvola passa, il sole tramonta un po', le condizioni luminose cambiano tra una clip e l'altra, poi si vede ed è orrendo. Quindi io vi consiglio di abbassare tutte le tapparelle, usare la luce di casa o delle lampade, possibilmente a luce continua. Se non avete la luce continua potete usare tranquillamente la luce di casa. Si tratta di impostare con un minimo di logica la frequenza di fotogrammi al secondo della macchina fotografica. Infatti la luce alternata di casa a volte vi fa questo effetto che vi faccio vedere subito in sovrimpressione se non azzeccate i fotogrammi a secondo corretti. Basta fare un paio di prove comunque. Siamo in Premiere Pro, abbiamo caricato le nostre tre tracce video. Per farvi capire di cosa sto parlando, questa di me in piedi col computer è la prima traccia a cui ho applicato una maschera tracciata con lo strumento penna tutto attorno. E rimane solamente questa parte della clip. Nella traccia sottostante che adesso attivo c'è la coca cola e nell'ultima c'è tutto cioè nell'ultima c'è 11 chiamiamola così. A questo punto tutta la prima parte viene via semplice mantenendo le maschere così come sono. La cosa diventa leggermente più interessante nella parte in cui, questo è il livello di regolazione in cui ho cambiato i colori. Quando la lattina si deve deformare. Che cosa succede in realtà? Cioè questa clip della lattina che cos'è in realtà? Ve la faccio vedere subito. In realtà io ho messo la lattina qui in posizione, l'ho filmata per un certo numero di secondi, poi sono andato a schiacciarla un pochino, mi sono alzato, l'ho registrata per altri secondi, l'ho rischiacciata, l'ho rischiacciata, l'ho rischiacciata, l'ho registrata ancora eccetera eccetera. A questo punto ho fatto una serie di ritagli e vedete qui dove ho il mouse adesso, ho preso due fotogrammi di ogni momento in cui la lattina veniva schiacciata. Adesso per evitare distrazione ve la faccio vedere subito. Ho preso due fotogrammi, ho corretto la maschera a penna, altri due fotogrammi ho corretto la maschera a penna eccetera. Tutto, quando tutto viene fatto scorrere in maniera veloce si spera che l'effetto sia sufficientemente realistico. Ovviamente quando lo fate dovete stare molto attenti a non cambiare la posizione della base della lattina. Riattiviamo tutto. Semplice, semplice. E questa è la prima parte, diciamo la magia. Bisogna semplicemente perdere un po' di tempo con la penna a delimitare bene i contorni. Il secondo trucchetto di magia, chiamiamolo così, è quello in cui tirando la maglietta sporca diventa magicamente pulita. Ovviamente ragazzi, prima ho registrato la parte in cui scuotevo la maglietta pulita. Ve la faccio vedere qua, togliamo il livello di regolazione, estendiamolo. Io ho la maglietta pulita, tiro la maglietta pulita ed è ancora pulita. Qui ho una maglietta sporca che tiro e rimane sporca. Che cos'è che... Si tratta di fare un taglio delle clip e far sparire dove finisce una clip e inizia l'altra. Bisogna semplicemente mettere una di fianco all'altra e trovare il momento giusto. La parte più difficile, tra virgolette, è quella di beccare la stessa posizione dopo essersi cambiati la maglietta. In questo caso, usando la Canon 6D Mark II, che ha uno schermo ribaltabile, io ho preso nota mentalmente, esattamente, nella mia posizione, di dove stava più o meno la bandana, di dove stava il mio braccio. Facevo caso a questo oggetto dietro di me, come cadeva rispetto al collo, in modo da andare a trovare la posizione più simile possibile. E in più, vi dico la verità, per terra, ho messo delle ciabatte dove proprio fermi in posizione per capire un attimo dove sarebbero stati i miei piedi in entrambi gli scatti, in modo da avere la posizione più simile possibile. Quindi, a livello di editing, è una cavolata assurda, a patto di avere registrato bene il tutto. Infine, per rendere tutto il filmato più realistico, visto che qua si tratta, nella prima parte, di usare un treppiede e registrare tre tracce a livello super statico, per rendere tutto più realistico, si può nidificare tutta questa sequenza e applicare un effetto di camera shake. Che cosa vuol dire camera shake? Che quando la clip viene riprodotta, c'è una sorta di movimento finto di una telecamera, per far vedere che non è ferma in un treppiede. Che cosa comporta applicare questa cosa a livello di editing? In realtà è una cavolata anche questo, perché si tratta di un preset che io ho scaricato da un altro canale di YouTube che vi segnalo nella descrizione perché è fantastico. È un canale in inglese, se lo capite, è eccezionale, dove io tra l'altro ho preso spunti e mi sono studiato i loro tutorial. Li ho proprio copiati, visto che lo scopo dei tutorial è copiarli. Questo preset, vi faccio vedere, si chiama Fake Handheld Movement e sono otto tipi di effetti a seconda di quanto volete che si muova la telecamera. Io ho messo Wide Smooth Motion, che vuol dire che è indicato appunto per un filmato fatto con grand'angolo e un movimento non troppo esagerato, giusto un minimo effetto per rendere un pochino più realistico il tutto. In poche parole bisogna semplicemente prendere e trascinarlo su. Come si installa il preset? Bisogna fare clic destro, importa predefiniti e selezionare il file che vi siete scaricati. Facile, facile, facile. Ultima chicca è il testo con il font di Stranger Things che si rimpicciolisce e lascia trasparire la clip sotto. Anche questo font ve lo linkerò nella descrizione del video, così lo potete scaricare, utilizzare pure voi. L'effetto per far comparire il video sotto la scritta si applica sulla sequenza nidificata. L'effetto si chiama mascherino traccia e bisogna selezionare la traccia dove avete messo il vostro testo. In questo modo si creerà questo tipo di trasparenza. Poi potete usare, appunto come ho fatto io, per quanto riguarda il testo, dei punti di controllo, di trasformazione, per scalare la scritta da grande a piccola e modificare la posizione, eccetera, eccetera. Se hai altre domande in merito al tutorial, perché magari non mi sono spiegato bene o vuoi delle delucidazioni, tutte queste cose qua, tranquillamente, chiedimi tutto quello che vuoi nei commenti. Sono a tua disposizione. Alla prossima!